Fatti di musica è il prodotto finale della rete cooperativa di 5 partner portanti veneti. Questo è un progetto organico ed interritoriale su cui insiste la Fondazione Cari Verona che mira a diffondere il modello sociale insito nelle dinamiche del fare musica. Progetto Fatti di musica, azioni di sistemi per la valorizzazione del territorio. Avrà una durata di due anni, quindi a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre del 2020. Vedrà coinvolti non solo i bambini attraverso la realizzazione di azioni e produzioni musicali rivolti appunto a loro come protagonisti, ma soprattutto cercherà di far interagire le famiglie e di portare il tutto poi all'interno della scuola e delle comunità. Questo progetto consiste nel mettere in scena i nostri ragazzi che producono due operine della tradizione didattica musicale. La prima operina è l'acciarino magico, la seconda operina è l'histoire du babà. Questa è una partitura musicale originariamente scritta per pianoforte e voce recitante, quindi da professionalisti. Nova Cantica invece realizzerà una performance anche con i bambini delle elementari e insieme all'attore e regista Enrico Vanzella. Questo progetto è stato finanziato da Cari Verona all'interno del bando innovativo per la valorizzazione dei territori, in cui abbiamo finanziato 15 progetti. Due riguardano direttamente la provincia di Belluno, altri due tra cui questo che andiamo a presentare oggi sono dei progetti trasversali rispetto al territorio. Mi piace sottolineare in particolare questo progetto perché ricomprende tutte e cinque le province dove opera Cari Verona e quindi è una cosa molto interessante che coglie in pieno gli aspetti che volevamo affrontare nel bando, quindi la trasversalità ma anche l'interterritorialità e quindi è un progetto importante perché poi si rivolge al mondo dei bambini, è un progetto innovativo sulla musica. Rispetto a 139 domande che abbiamo avuto, le nostre disponibilità finanziarie ci hanno consentito di finanziare solo 15 progetti. Un buon risultato vuol dire che il territorio ha risposto bene, vuol dire che questo bando potrà essere riproposto.